Musica Guardando il calendario in data 8 febbraio ritroviamo un santo, laico, che ha dedicato la sua vita agli orfani e alla gioventù abbandonata. Si tratta di San Girolamo Emiliani, fondatore dell'Ordine dei Padri Somaschi e noi circa due anni fa siamo stati toccati dalla Grazia perché a guidare questa diocesi, la diocesi di Manfredonia V.S. San Giovanni Rotondo, c'è un padre somasco ed è il padre Franco Moscone. Ben trovato. Grazie e buona domenica. Come sempre è una gioia averla qui. Abbiamo trovato anche un bel motivo per festeggiare insieme. Da 100 anni circa, l'Ordine dei Padri Somaschi è presente in America, ma nel 2011 hanno festeggiato 500 anni dalla fondazione. Introduciamo un po', usando il titolo di un libro, Va dove ti porta il cuore, perché sicuramente tutto da lì è cominciato. Il libro di Susanna Tamaro parlava di altro, ma parlava di un sentimento che alberga, penso, nella vita di ognuno e quindi anche nella vita dei Santi e delle istituzioni che vivono un carisma, perché l'istituzione è una realtà viva, fatta di persone vive e quindi ha un cuore che non è il cuore della somma dei singoli, è il cuore che unifica tutti questi singoli che fanno parte della famiglia carismatica. E quindi un cuore che porta per il mondo, porta per la Chiesa. La storia della congregazione dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi, questo sarebbe il termine canonico corretto, che è dentro una grande famiglia di congregazioni religiose del XVI secolo, di cui la più famosa ovviamente sono i Gesuiti. Ecco, ormai ha cinque secoli, cinque secoli e dieci anni di cammino lungo questa storia ed è un cammino mosso da un cuore che lo Spirito Santo aveva riempito ed era il cuore di San Girolamo Emiliani, laico del rinascimento, dell'inizio XVI secolo. E questo cuore continua attraverso l'istituzione da lui seminata che sta crescendo, che è cresciuta in questi cinque secoli. E proprio quest'anno celebriamo il primo centenario di presenza in America, 1921, partendo dallo stato più piccolo fondamentalmente dell'America, che è El Salvador in America centrale. San Girolamo, forse non tutti conoscono la sua storia, sicuramente ha avuto una vita travagliata. Per usare due immagini, anche per chi volesse andare a cercare un po' più di informazioni, usano queste due immagini, catene e strada, perché dalle catene si è liberato nel momento della conversione. Quando, per grazia di Dio, mi è toccato celebrare il quinto centenario, quindi 500 anni di questo inizio del carisma nella Chiesa di San Girolamo Emiliani, abbiamo scelto come immagini quello delle catene e della strada, perché ben corrispondono al momento iniziale, insomma, alla liberazione dal carcere del fondatore, che aveva appena 25 anni, ma aveva già alle spalle, proprio perché figlio di una famiglia nobile aristocratica di Venezia, aveva già alle spalle una certa carriera di vita politica e militare, e gli era stata assegnata la giurisdizione di una castellania lungo il Piave. Durante la guerra di Cambrai, insomma, in una incursione degli imperiali, viene sconfitto insieme alla piccola guarnigione che difendeva il castello e messo in carcere. Dal carcere, dopo un mese, insomma, ne esce in forma miracolosa, così racconta lui, perché si era offerto alla Madonna, alla Vergine, invocandola sotto il nome di Madonna Grande, che era un termine utilizzato e che lui conosceva fin da bambino per un santuario in Treviso, città. Da dove si trovava a Treviso non c'era molta distanza. Ecco, è uscito in forma miracolosa dal carcere e chiede alla Madonna di saperlo accompagnare, perché avrebbe dovuto attraversare l'esercito nemico per raggiungere la città, che era ancora in mano alla Serenissima. Invoca di nuovo la Madonna e lui racconta che lo prese per mano e lo accompagnò lungo questa strada, lungo questi chilometri contati, insomma, sono undici, da dove fu liberato alla porta della città di Treviso. Quindi queste due immagini, le catene spezzate e la strada sono un po' l'icona sia del carisma della congregazione che nasce, delle congregazioni sorelle, sia della missione, ossia riconoscere che siamo continuamente liberati da catene, che Dio spezza le catene che attanagliano i cuori, le menti, le vite di tanti e anche le nostre, e ci mette per strada, ci fa camminare e ci dona libertà e ci permette poi anche di prendere per mano altri e aiutarli a camminare e a fare strada verso la libertà. Un po' profetico rispetto a Papa Francesco e la cosiddetta Chiesa in uscita, insomma, andare per strada. Le immagini che avevamo scelto in preparazione al giubileo nel 2008, poi il giubileo venne celebrato nel 2011-2012, al quinto centenario, avevano in qualche modo qualche cosa di simile, insomma, perché l'individuare continuamente l'immagine della strada e della libertà, della catena che deve essere infranta, ma non era niente di strano o di nuovo per noi, faceva parte del racconto stesso della vita del fondatore. Da sempre l'iconografia di San Girolamo Emiliani, dal 1600, insomma da quando iniziarono i processi per la beatificazione e canonizzazione, lo hanno sempre rappresentato con le catene spezzate ai piedi e con l'armatura militare abbandonata e lungo una strada. Quindi l'immagine fa parte della storia e ha accompagnato questi cinque secoli e continua ad accompagnare, individuando in qualche modo sia il carisma come spiritualità, sia soprattutto la missione affidata agli nella Chiesa. Patrono degli orfani e della gioventù abbandonata dal 1928, grazie. Questo dal punto di vista universale, San Girolamo Emiliani è il primo, questo è storicamente provato, che nel inizio XVI secolo, la data è attorno al 1527-1528, periodo di una particolare pestilenza, quasi una pandemia che aveva colpito in modo particolare i territori della Repubblica Veneta e della città di Venezia. Lui inizia a dedicarsi a raccogliere i bambini, che oggi chiamiamo i bambini di strada, rimasti orfani oppure che arrivavano soli a Venezia, perché Venezia è la capitale, il porto, insomma, dava maggiori speranze di vita e di trovare sostentamento rispetto al resto. Li raccoglie e forma per loro quelle che oggi chiameremo case famiglia, ma più ancora inizia il lavoro a bottega, quindi è da considerarsi anche il fondatore delle prime forme, come dire, di scuola di formazione professionale. Un lavoro a bottega a cui corrispondeva un contratto notarile, quindi Gerolamo aveva molti amici ovviamente tra gli artigiani, tra i professionisti e inventò il sistema del collegare il ragazzo in formazione con una particolare, allora si chiamava bottega o artigiano, con un contratto che ovviamente ne stabiliva, nebo la dell'età, i tempi e anche un certo introito economico di formazione. Quindi veramente è da vedersi come l'iniziatore di quello che poi si svilupperà nel tempo, diventeranno i corsi di formazione professionale, le scuole di formazione professionale. Ecco, poi da lì ne conosciamo tante altre di figure che si sono occupate dei giovani. Sì, lo stesso Don Bosco che conosceva la storia di San Gerolamo Emiliani in diverse di quelle che si chiamano i pensierini della buona notte, insomma la buona notte che dava ai suoi ragazzi, diverse volte ha citato San Gerolamo Emiliani, insomma per questo atteggiamento e per questa sua intuizione iniziale. Probabilmente, conoscendo la sua storia, tutto è scattato nel momento in cui si è dovuto prendere cura dei figli di suo fratello, quindi dei suoi nipoti, questa passione. Diciamo che la conversione non è un qualche cosa che arriva improvviso e finisce lì, ma proprio perché una strada richiede un continuo cammino, è un percorso, è il Dio che ti converte e quindi ti pone in una situazione di discepolato, ti mette in una strada e lungo questa strada scopri le novità della conversione, quindi assumi anche responsabilità nuove che diventeranno doni da trasmettere e da comunicare anche agli altri. In effetti inizia la data che viene scelta come momento in cui lo Spirito Santo entra nel suo cuore e lo mette in viaggio, il 27 settembre 1511, liberazione dal carcere, cammino dalla prigionia, verso la riscoperta della libertà, ma poi quel cammino continua e ha un periodo di formazione spirituale fondamentalmente lunghissimo perché dal 1511 al 1526-17 praticamente non si impegna in particolari opere che diremmo di carità, continua in qualche modo quello che era il suo lavoro e la sua attività di prima, riacquista anche la castellania, quindi la funzione, ma incomincia ad occuparsi in modo diverso dei figli di suo fratello, diventa tutt'ora che era morto e soprattutto si avvicina ad un gruppo, ad un movimento di quel tempo che si chiamava il Divino Amore, un movimento fatto soprattutto di laici, ma che aveva dentro anche degli animatori spirituali e persone di alto livello, nel 1527 per esempio arriva a Venezia Sanghaetano Tiene che era uno degli animatori di questo movimento e dentro questo movimento lui trasforma spiritualmente la sua vita, incomincia lo studio della Sacra Scrittura, si rende familiare al testo biblico che legge e nelle sue poche lettere che abbiamo ce ne rendiamo conto che il linguaggio è il linguaggio biblico e anche frequentando il gruppo inizia uno stile di vita spirituale, quindi i sacramenti, la direzione spirituale, la partecipazione all'Eucarestia che allora non era una cosa così comune insomma. E sì, pensando ai tempi. Insomma, per cui lo stesso approfondimento di Catechesi e tutto questo trasforma la sua vita, il suo carattere e poi sui 40 anni c'è la seconda grande svolta che è la svolta che io chiamerei di tipo missionario ed educativo accogliendo e incominciando insomma queste nuove attività, torno a lui poi si formano, si uniscono altre persone e inizia in questo modo quello che si chiamava e che chiamò la compagnia dei servi dei poveri che quindi all'origine poi dopo il concigno di Trento è quella che diventa la congregazione religiosa dell'Ordine dei Chiarici Regolari Sommaschi. Tante sono le missioni sparse nel mondo, proprio lei ha partecipato a tante anche all'estero. Beh, io ho avuto l'occasione come superiore generale ovviamente di poter visitare ed essere presente in tutte le comunità della congregazione in giro per il mondo e quindi in tutti e cinque i continenti. San Girolamo ha messo al centro chi era ai margini fondamentalmente, oggi come si comporterebbe vista anche l'emergenza educativa, viste le difficoltà di tanti giovani? Io credo che seguirebbe a pieno quello che è in questo momento lo stimolo che viene dal pontificato di Papa Francesco e trova pienamente dentro questo bisogno del recupero delle periferie, del fare delle periferie il centro e il luogo dove il Vangelo insomma viene portato e fruttifica, alimenta, fermenta e modifica insomma. Come l'impegno verso le nuove generazioni, quindi impegnarsi e accogliere le nuove generazioni, aiutarle a crescere, a entrare in quella che è la scommessa educativa significa preparare il futuro e cambiare in meglio questo mondo e la Chiesa intera. Il suo, chiamiamolo, punto fisso che era tipico dell'epoca era quello della riforma della Chiesa, insomma tutti i grandi movimenti e santi sia cattolici che al di fuori, insomma siamo nel periodo di Lutero che poi diventerà la riforma protestante, c'era questo grande anelito di riformare e di cambiare la Chiesa e lui lo portava nel cuore. Il suo particolare, la sua intuizione che è poi l'intuizione carismatica offerta gli dallo Spirito Santo è quello di riformare la Chiesa non partendo da delle teorie o da una forma di, chiamiamola evangelizzazione catechesi, ma partendo dal formare delle comunità che erano fatte di ultimi, ecco, e tra gli ultimi predilesse in particolare i bambini rimasti senza famiglia o che vivevano per strada, raccogliendoli e formando delle comunità che lui chiamava comunità di riformati e dentro quelle comunità di riformati chi c'erano? Al centro c'era il gruppo dei bambini, dei giovani in formazione, in crescita, c'erano dei laici che volevano riformare la Chiesa e si impegnavano in questo servizio e cercava di avere, se era possibile almeno un sacerdote per ognuna di queste comunità che doveva garantire, ecco, quella che era poi la formazione spirituale e sacramentale del gruppo. Quindi questa fu l'intuizione, riformiamo la Chiesa siccome, ecco, partendo dalle persone ultime, dalle persone nel bisogno, tra questi ultimi ha individuato i bambini e gli adolescenti come quelli più a rischio e cercò di offrire loro quello che le famiglie aristocrate che offrivano i loro figli. Per esempio, era per tutti dovere imparare a leggere e a scrivere e questi erano bambini di strada, nessun bambino di strada imparava a leggere e a scrivere, erano i figli della nobiltà e quindi imparare a leggere e scrivere e fare conto è poi un mestiere, che è il lavoro, che quindi avrebbe dato futuro e garanzia alla vita. Quindi non solo accoglienza ma anche accompagnamento durante tutto il percorso di vita. Cosa dovrebbero imparare oggi gli adulti da San Girolamo? Beh, intanto è un modello di laico, insomma, potrebbero imparare che la riforma della Chiesa non è nelle mani o nella testa solo della gerarchia. In genere la gerarchia è sempre andata, come diciamo, dietro nella storia ai tentativi di riforma. In questo momento sembra che sia all'opposto, insomma. Quello che ha sempre fatto germogliare questo desiderio e questo stimolo di riforma è stato il mondo laicale. Quindi è senza dubbio un esempio di un laico di cinque secoli fa, ma siamo nel pieno del rinascimento e contemporaneo di Leonardo, di Michelangelo, di Raffaello, insomma dei grandi artisti e scienziati dell'epoca. Aveva quello spirito di rinnovare l'uomo e rinnovare le istituzioni e quindi anche la Chiesa come credente. Da laico non pensò mai a prendere o a assumere una carriera di tipo ecclesiastico, convinto che ci fosse spazio sufficiente per lui e per i suoi amici per dare il meglio di sé e di loro per la Chiesa e per la società della sua epoca e operare, ossia a renderla attiva, nuova e capace di futuro. Diciamo che c'è tanto da imparare, ma oggi, viste le situazioni di tanti giovani allo sbando, fino proprio a toccare un limite incomprensibile, chi sono gli erodi di oggi? E' una domanda non facile. Potremmo dire che Erode è una mentalità, secondo me, quella di oggi, più che andare a cercare delle persone, insomma il tale, il tal'altro, il tal potente, ma come denuncia Papa Francesco è una mentalità che ha messo per esempio il mercato come legge che risolve tutti i problemi, che ha puntato essenzialmente sul profitto e sulla finanza più che sul lavoro e su un'economia reale. E questo che cosa ha allontanato e ha reso più povero quello che è l'uomo? E va a colpire ovviamente le fasce più deboli e le fasce più deboli oggi sono quelle che si stanno formando e aprendo al futuro. Ci sono scarti di generazioni, insomma. Quindi l'erode di oggi direi che è il rischio di una mentalità di cui però ad agio ad agio e la pandemia stessa forse ci ha incominciato a far prendere coscienza che qualche cosa va cambiato e va cambiato nel mondo di pensare. La società, l'economia, lo sviluppo tecnico-scientifico, la finanza. Ecco perché potremmo guardare alla figura di San Girolamo anche come modello per andare avanti. Lui ha lavorato anche in politica in qualche modo, era parte di una famiglia. la prima legge che viene fatta sulla povertà all'inizio del 1500, in quell'epoca, insomma, è a Venezia e porta la firma di suo fratello. Certo ha tutte le caratteristiche di quell'epoca, però è significativo, insomma, è significativo di un'attenzione, di una visione e anche di una denuncia. Tra tanti ordini, tra tanti carismi, perché lei si è innamorato di San Girolamo, evidentemente, e di tutto quello che ha fatto e che continua con le missioni? E la vita, insomma, avendo conosciuto da giovane i padri somaschi, mi sono lasciato, tra virgolette, insomma, catturare, affascinare. Più che averli scelti, io lo dicevo anche quando passavo, insomma, nelle varie comunità, insomma, per il mondo, più che aver io scelto i somaschi, credo che siano stati loro a scegliere me, insomma, a tirarmi dentro e così è stato, insomma, nella vita e così continua ad essere. La chiamata perfetta, insomma, è stato scelto. Come anche qui, insomma, non ho scelto io di venire a Manfredoni, insomma. Noi siamo contenti di chi l'ha scelto, però, insomma, ci sono sempre i pro e i contro in tutto. Comunque le difficoltà le affrontiamo insieme, noi la ringraziamo per essere a guida di questa diocese. Grazie a voi, grazie alla TV. La ringraziamo per, ecco, aver festeggiato con noi l'8 febbraio, il giorno di San Girolamo. E rivolgiamo gli auguri a tutto l'ordine, ovviamente. Grazie. Alla congregazione. E vorrei chiudere con le poche parole che fanno d'attestamento di San Girolamo, che sono queste. Ecco, seguite la via del crocifizio, che è la spiritualità, amatevi gli un gli altri, che è la carità, servite ai poveri, che è la missione. Che poi è anche il suo motto episcopale. Che è quello che ho sintetizzato ancora di più, ecco, nel motto episcopale. Lo abbiamo tutti impresso. Grazie, padre Franco. Grazie a tutti. Buona domenica.